Allora, sono Patrice di Rado liberamente, volevo sapere cos'era per lei Etiket. Non lo so. Un posto dove incontrano Fatti. Quali sono le risorse invisibili? Quale ti devo dire? Diventa qualcosa, io ho preso una domanda a caso. E tu rispondi a caso. Non so cosa dire. L'abbiamo fatto qua perché in Piazza Grande l'anno scorso c'erano tre le fasi, c'era un bel tempo, c'era lì anche il sole, c'era l'interessante, è stato bello quei tre giorni di domenica, dell'anno scorso. L'abbiamo fatto in questa chiesa perché ci siamo al coperno, possiamo anche mangiare, siamo in 5 da qua tanta gente, siamo in armonia. Già, ma ora che ci penso la domanda che stavo per fare era una domanda più intelligente. Aiuto, ma comunque... Ecco, non è strano che la rappresentazione di oggi pomeriggio qui in chiesa non sia una rappresentazione sacra? Ma questa è sacra perché la gente ci crede e qua c'è abbastanza gente che sa fare il suo lavoro. Allora, volevo sapere cos'è per te il disagio mentale. Il disagio mentale può essere una risorsa, da un certo punto di vista, però può essere anche un problema per altre persone, quindi credo che sia una cosa che deve risolvere la collettività tutti insieme, la società tutti insieme, oltre ai medici, ai psicologi e alle stesse persone che ce l'hanno. Grazie. Domanda troppo difficile, però l'hanno mai aspettato. Sono Simone di Radio Liberamente. Cosa ne pensa delle risorse invisibili? Io penso che le risorse invisibili siano importanti come e più delle risorse visibili, perché possono essere quelle energie che chi volesse farlo non può catturare e che possono cambiare il mondo alimentate dalla speranza, dai valori e delle energie che ciascuno di noi porta nel cuore oltre che nel cervello. Arte, culture e spettacoli per scoprire le risorse invisibili. In effetti, purtroppo, le risorse migliori spesso sono invisibili, perché sono umili e modeste le risorse vere. Le altre sono un po' più spettacolari, o no? Assolutamente, bellissimo questo. Noi abbiamo elaborato qualche domanda. Com'è venuta a conoscenza di questa iniziativa? Passando per strada in questo momento. Abito qui dietro, purtroppo non sono molto impegnata con la famiglia e il lavoro. Sono passata, mi sono fermata. Quindi non so se avete fatto altro tipo di pubblicità. Era un po' per capire anche questo. Beh, tra le domande che abbiamo fatto, siccome la signora è interessata al tema delle risorse invisibili, non so qua. Eh, volevo sapere cosa sono le risorse invisibili. Per me? Sì. Le risorse invisibili sono il patrimonio creativo di una città, delle sue persone, e anche il patrimonio della città in quanto insediamento urbano. Quindi la capacità anche di cogliere quelle che sono le bellezze culturali, la storia, le potenzialità di una città. Ha trovato le chiavi di etica? Ciao Patrizia. Sì, spero che come me abbiano trovato anche tante altre persone di Modena per cercare di costruire nella nostra comunità molta più giustizia, più solidarietà tra noi, e quindi venirci più incontro e metterci più in relazione gli uni con gli altri, perché questo è un pochino l'obiettivo di Etica in questi tre giorni, dove tanti volontari vogliono parlare ai cittadini raccontando quanto è importante per loro fare volontariato e quanto così si può arricchire sempre di più di valori la nostra società. Grazie. Grazie a te Patrizia. Quando uno lo usa, non so se si consuma come un oggetto, oppure? No, secondo me le risorse di volontariato e di solidarietà hanno invece un effetto moltiplicatore, cioè più dai, più ricevi e più semini solidarietà, più speri che cresca questo seme della solidarietà anche in tante altre persone, nella vita di tante altre persone, quindi è inversamente proporzionato, speriamo. Cos'è per te Etica? Per me Etica è un'occasione che il volontariato ha di farsi vedere ai cittadini in un modo nuovo. Solitamente siamo abituati a vedere i volontari sempre come quelli che chiedono dei soldi per sempre giuste cause, però insomma è una buona occasione per dare e restituire alla città qualcosa. Le risorse invisibili per me sono quelle risorse come ad esempio il volontariato che ci sono, che abbiamo già a disposizione come città e come cittadini, ma di cui spesso ci scordiamo un po' che esistono. Cos'è Etica è per me? È una bellissima iniziativa che coinvolge tutte le associazioni di volontariato e quest'anno sono molto contenta che ci sia anche Radio Liberamente. Grazie. Apriamo un po' la Biblioteca Vivente. Che cos'è la Biblioteca Vivente? La Biblioteca Vivente è una biblioteca dove il catalogo, tutti i libri che sono in catalogo, sono persone che raccontano la propria storia e è un tentativo di decostruire gli stereotipi. Potendo parlare con qualcuno che racconta la sua storia, ci si confronta e molte delle idee che magari si hanno su queste categorie possono modificarsi. Ma ogni libro è una categoria, rappresenta una categoria? Sì, ogni libro è una persona con una storia che appartiene ad una categoria, quindi... Tu che libro sei? Io sono la precaria. Siamo sullo stesso scaffale! Quando uno, quando si usa una risorsa, no? Una di queste risorse invisibili di cui parliamo oggi, quella risorsa si consuma come un oggetto o è qualcosa che invece si sviluppa, secondo te? Io non credo che siano risorse rinnovabili, come sono energie rinnovabili, anzi, spesso questo tipo di risorse si consumano non dandole. Quello che ti toglie è più quello che non dai, piuttosto che quello che dai, secondo te. Ah, per ora è tutto da Radio Liberamente! Grazie a tutti!